Assessore Santilli, sono ore cruciali queste per il Paese con il nuovo DPCM, ma per quanto riguarda Pescara la situazione scuole ad oggi qual è? Allora, purtroppo dico io, abbiamo una notizia positiva in quanto domani i ragazzi della scuola media Rossetti tornano in classe dopo aver effettuato tutti i tamponi e quindi tutti i risultati adesso sono negativi. Però da oggi chiudiamo un'altra scuola che è la scuola dell'infanzia di Fontanelli, il comprensivo 1, dove è risultata positiva una maestra. Quindi di conseguenza la preside del comprensivo 1, la dottoressa Ascione Teresa, ha deciso di chiudere il plesso. Quanti sono gli studenti e il personale interessato da questa chiusura? I bambini interessati di questa situazione sono 100 i bambini più o meno, però sono coinvolti anche 14 tra insegnanti e personale ATA. Assessore, per quanto riguarda il nuovo DPCM si attende di sapere e di capire cosa sarà dell'Abruzzo, in quale zona verrà inserita, ma questo cosa potrebbe portare a livello delle scuole? C'è il rischio che possa esserci la didattica a distanza anche per qualche scuola media al momento? Ad oggi praticamente il DPCM che è uscito abbiamo visto che manca la classificazione ancora dell'Abruzzo, nel momento in cui sapremo in quale colore saremo relegati ci saranno delle conseguenze. Io mi auguro che l'educazione a distanza rimanga solo e esclusivamente per le scuole superiori, perché per le scuole inferiori, quindi le scuole medie, mi riferisco in modo particolare alle primarie, quindi alla scuola elementare, spero che si continui a stare in presenza. Voi continuate ovviamente giorno dopo giorno, ora dopo ora, a monitorare la situazione? Io sono in contatto quotidiano, ad ora, anzi con i presidi dei comprensivi, non appena c'è qualche novità loro me la comunicano e io di conseguenza mi muovo.